Con Enrico Rominelli, lì dietro ti sei dato da fare, anche in proiezione offensiva, in due o tre azioni ci stavi per mettere lo zampino. Ti chiedo, doveva essere questa forse la partita della svolta che domenica è stata, non solo per te ma anche per tutto il gruppo? Sì, diciamo che alla fine abbiamo fatto una buona partita di squadra, dovevamo comunque ripartire da una brutta sconfitta e quindi comunque è stato un buon pareggio, è il primo pareggio, quindi dai è stato un buon pareggio. Sulle due azioni dell'inizio secondo tempo, gol annullato all'Aquila, gol annullato a voi, cosa ci puoi dire? Io ho visto ben poco, ho solo visto che sul gol loro c'è stato un tocco di mano, poi non sta a me dire, non sono io l'arbitro, quindi sull'altro gol nostro io ero a davanti, quindi non ho potuto vedere. Però bandierina che si è alzata con i tempi giusti, tra virgolette, come è arrivata la segnalazione sul tocco di mano? Quanto è complicato portare questo simbolo sulla divisa e poi non dare le risposte giuste e immediate a una tifoseria che ovviamente è abituata a ben altro. No, dai, è una bella città, una bella piazza e noi ce la stiamo mettendo tutta per dare il massimo, giorno dopo giorno, allenamento per allenamento, quindi proviamo sempre a dare il massimo e questo è quello che possiamo dare ancora di più.